Adesso la lite è tra gli schiavi della finanza e dei poteri oscuri, tra due piramidi che lavorano per questi. Prima non era così, c'erano anche, tra le virgolette, gli indipendenti o i buoni. Questo era un effetto della Seconda Guerra Mondiale, dell'esistenza, eccetera. Adesso, tutto sommato, per noi, chi vince non importa, perché tanto la guerra, i vaccini, l'elettromagnetizzazione del mondo, eccetera, eccetera, la fanno comunque. Si dividono su cose minori e noi facciamo il tifo, in fondo, su cose minori. Ma le cose importanti nessuno le tocca. La cultura, l'arte, la sanità, la scuola, tutte le cose perverse che ci stanno facendo, quelle vanno avanti tranquillamente. Anzi, questi le garantiscono e fanno finta di portare avanti un gioco democratico in cui noi possiamo votare per l'uno o per l'altro. Una parte della gente se ne accorta e comincia a non votare.